chi ruba in casa napoli la domanda in portogallo vanno in puglia di che esistono una borsa cosa viene dopo sabato bene di questo parole ma di che parla a simone se l'indovini ti pago una troia no no carissa mi raccomando green ball 2 1 cosa non è sorella fratello assaggio al fratello difficile questa cosa fai con i suoni microfono su ableton passo di te passo ma la canzone chi è animale femmina trotta puledro cavalla bravo chi gareggia in olimpiadi generale o 2 o sportivo atleta atleta si cosa usi per togliere la l'acqua dalle mani asciugamano carta asciugamano si frutto nessuno gli sta dando peso ma intanto rosso sta facendo il nuovo record di palleggi giorni minchia fragola no no una minchia cos'era avrei detto testicoli cosa è galli sanremo jody collaborazione ikea casa bravo dove abiti era più facile c'è che si stiamo astrubando raga ricreando la situazione c'è gilbert che sta facendo il nuovo record passo sono l'idiota chi ruba in casa napoli singolare e plurale sti cazzi no ladri no vabbè se non ti abbia detto plurale almeno prova col singolare figa cosa catrina uragano bravo cosa non eh montagna mare ok cosa è fuori serie tv fiore 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 bello molto incredibile assurda fine orchidea no orchidea pure il fenomeno porco dio abbiamo fatto sette punti ragazzi abbiamo ancora due passo è il vostro turno marza pilli di manu tre due uno via passo e ce lo giochiamo subito per sicurezza cosa colleghi controller pc lunghi cavi giusto yes sei elegante sei bello vai cosa non giorno notte passo eh titan polla era il sottomarino il titan pago per casa abitare non affitto bravo grosso di legno che contiene morto porca barile barile cazzo fanno in portogallo cazzo fanno in puglia passo troppo vecchia come roba ok non avete più passo quindi adesso siete inculati lancio del crece ah giavellotto giavellotto era capito del del usi in cucina per non padellare grossa entola si case popolari luogo pele eh no era quartiere non mi veniva un quartiere cazzo il nome di un quartiere passo non posso passare quindi berme lombrigo ok di cartone dexter dai ti prego laboratorio si non minuti secondo alti cosa alti lo fai per vivere naso respirare si ok vabbè 6 a 7 ragazzi abbiamo comunque abbiamo comunque vinto ora è il momento di sfidarsi sul round gilbert nel primo round l'abbiamo vinto noi facciamo il round gilbert poi ci sarà il round finale con voi scegliete qualcun altro da mettere in mezzo allora iniziamo noi con il round gilbert se non vi dispiace ok ecco allora porca puttà 3 2 1 passo passo eh sono tutte parole che secondo me non conosce cosa viene dopo dopo sabato vieni di gilbert hai la settimana montata al contrario sul calendario il di rubik colorato giocare magma ma fai gilbert che cazzo è questo parole è gilbert prova a dirne una gilbert prova a dirne una di una parola caso di rubik cosa ti viene in mente gilbert vabbè non lo conosci è il cubo di rubik gilbert è un giochino però mi raccomando per noti facendo miau come l'ultima volta ok esatto cosa eh bombolone crema gaso ma come gaso gilbert che cazzo stai dicendo cosa eh spiegazione di una parola il significato oh 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 uno gilbert bravo però va bene bravo ma di che cazzo vogliamo parlare passo eh vabbè ragazzi si era già dove passa il treno binari centrale hai dormito sotto sotto eh eh è giusto provo gilbert stanzione cosa usi per no ci sono anche io usa pulirti le braccia dal acqua bagno sapone pulirti effettivamente cosa usi per veicolare gilbert prova a spararla inizia con la m finisce con la anopola prova inizia la mano dai gilbert inizia con la mano finisce con povola manopola 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 bravo gilbert esatto momento vostro ho davvero paura di cosa potrebbe succedere gilbert se l'indovini ti pago una troia no 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 garissa passo dai passo è impossibile questa cosa è grimbaud fuori dalle io vai sei prontato personaggio madonna grimbaud grimbaud l'esempio dei personaggi quando uno muore lo seppelliscono nella cimitero legno ma è dai fai mao gilbert devi fare miao gilbert ha detto l'ha detto cavallo maschio piccolo pony alla cucciolo puro sangue figlio gilbert miagolare come un bastardo non lo so non capisco no va bene è giusto è giusto è giusto non è pulentro ma è pulentro no mi dispiace ma prima però è come prima gaso era gas dovete sapere che non capisco bene l'italiano è vero è vero simone bravo bravo basso la usi per baciare parlare la bocca si tirare basso non ci prova neanche bene chiusura sigillato borraccia se becca questa io vado a casa sottovuoto prenotati sparala comunque miagola dine una vai ce l'ha ormai non ha capito che te miagola fa così fa e mettici no no scasso eh aspetta no no adesso lo so io cosa vuol dire tra un po' non lo so dire non l'avrei beccata niente ti prego dai ti prego vale anche se è plurale quando nasce un figlio chi lo porta secondo la animale fantasia gilbert è figlio del tempo quando non lo capisco quando nasce un figlio chi lo porta nasce secondo la fantasia animale animale medico si no non era medico 5 era 5 ero 5 bravissimo possiamo dire che attualmente gilbert è più forte di billy bella è indovinato di più ma che cazzo esulti la gente come noi non scopa mai gilbert sempre non molla non molla mai lascia like e lascia un commento se no ti arriva un destro sotto il mento reactions e gaming puoi trovare di tutto non troverai mai un edit brutto e non ne la fuga la fuga la fuga è